Bene, pagelle infrasettimanali possiamo dire perché il turno ci sarà giovedì, quelli inerenti la 25esima giornata, zero a B2E e sempre in classifica il comitato regionale a cui ricordiamo che le decisioni vanno prese in tempo reale e non in tempo passato. Uno agli albitri di Ponte Paolisi, De Clarese Cervinara, perché hanno avuto delle sviste colossali, sia perché non hanno retto la gara per determinati minuti, sia perché non hanno visto dei rigori, perché a mio parere sia quello di D'Andrea, sia quello di Pignalosa c'erano tutti e due i rigori ed eccessiva è stata forse l'espulsione di Sweat. Mentre due, 22 calciatori in campo proprio di Eclanese Cervinara, 5 minuti in cui meritavano la chigliottina perché hanno reso brutta una parte della partita che era bellissima. Poi tre, Asbett dell'Eclanese perché ha lasciato in grandissime difficoltà la propria squadra e l'ha fatta rischiare parecchio. Quattro al San Martino che risolge ma puntualmente si suicida tra le muravine. Cinque a Cioffi del Simone del Cervinara, da ottimo calciatore, un errore che sicuramente andava evitato anche perché ha chiesto un buon rigioco inesistente, c'era pace e teneva in gioco il calciatore e poi ha commesso lui un grossolano errore. Mentre sei va la Virtus Avellino e l'Accadia, ingomiabili per serietà, speriamo che siano così fino alla fine. Sette a Santosuosso, Pignalosa, Guardabascio, Liccardi, Befaro e Coppola. Onestamente il top di questa venticinquesima giornata. Otto alle Clanese e a Grotta che rientrano di prepotenza nei play-off e al Montesacchio che vede il terzo posto molto da vicino. Nove alla Bisaccese che fa il secondo colpaccio esterno e quindi ipoteca la salvezza diretta veramente in modo spettacolare. Dieci alle Clanese e Cervinara per lo spettacolo che hanno dato in campo al di là di quei cinque minuti. Forse insieme a Cervinara Paolisi le più belle gare di questa stagione fino alla ventisesima. Grazie.